ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ad armand nicolet non è la prima volta che porto questo marchio sul canale l'occasione che mi ha spinto a decidere di portare un nuovo armand nicolet qui come panoramica nel canale è proprio il fatto che hanno fatto uscire un nuovo pilot da 41 mm infatti fino ad oggi esisteva la versione da 43 mm che concettualmente non è sbagliata anzi un pilot da 43 mm è proprio il suo essere ma sono convinto che questa versione da 41 riuscirà a soddisfare a convincere maggiormente la maggior parte degli appassionati che guardano il canale no un 41 mm è sempre più facile da indossare rispetto ad un 43 anche se ripeto un pilot da 43 è il suo ho scelto la versione più sgarciante che hanno a catalogo per una volta ho voluto esagerare proprio per vedere se è possibile che un orologio sopra le righe riesca a diventare un orologio indossabile in qualsiasi occasione o perlomeno nella maggior parte delle occasioni nella maggior parte delle situazioni un orologio da utilizzare quasi ogni giorno diciamo così naturalmente l'orologio mi è stato messo a disposizione dell'amico giacomo che è titolare della gioielleria pasquali domenici di viareggio che è partner ufficiale del canale e concessionario di armand nicolette quindi offre un trattamento di favore a voi che state guardando basta che telefonate per chiedere com'è questo trattamento di favore e vedrete che rimarrete soddisfatti poi anche altri marchi potete svizzarrirvi ora prima di guardare nel concreto l'orologio l'armand nicolette mm2 questo è il suo nome completo vi mostro l'orologio del giorno che in questo caso è simpaticissimo omega speed master il moon watch 42 mm di diametro cassa calibro coassiale 3861 di ultima generazione vetro zaffero nel lato a e vetro zaffero nel lato b orologio che è un classico no 42 mm un pochino grande sul polso insomma è ben presente è un bel cronografino presente però è il suo essere così è quasi inutile andare a prendere quelli più piccoli e deve essere fatto così stesso discorso come per il pilot di armand nicolette devono essere grandi 42 mm ci sta ci sta ci sta ora giriamo la camera guardiamo la panoramica e poi vi aspetto qui come al solito per le considerazioni finali apriamo le danze con il solito rituale che vede la matematica applicata alla geometria diametro cassa 40.7 mm spessore 11.9 ingombro trasversale al polso 47.7 mm e interasse da 22 ho dovuto misurare due volte lo spessore in quanto incredulo di un risultato così contenuto credevo di aver commesso un errore 11.9 mm sono veramente pochi e devo essere sincero a guardarlo non si direbbe uno di quei rari casi nei quali l'orologio appare normale e non sottile in ogni caso si tratta di parametri totalmente convincenti sotto il 41 di cassa e con un lag to lag nella norma siamo in presenza di un pilot indossabile da chiunque anche coloro i quali pensano che possa risultargli troppo grande un pilot lo deve essere a livello di design ci troviamo di fronte ad una cassa piuttosto conservativa il classico aspetto da orologio per aviatori anche se alcuni dettagli ritengo possano essere rimarcati e definiti come peculiari di questo modello intanto la lunetta che definirei a doppio scalino con quella piega al centro che riflette la luce in maniera anomala ed originale e poi per la corona di carica pressione che appare leggermente affogata nella cassa al riparo da urti solitamente in questo tipo di orologi troviamo corone ben sporgenti e spesso a cipolla o a diamante qui si è preferito scegliere una sagoma standard ci sono poi le anse che sono molto sottili e snelle pur rimanendo contenute questo è dovuto alla compattezza delle misure della cassa che consentono di avere anse corte ma ben slanciate anche la finitura di queste ultime può essere oggetto di apprezzamento una sottilissima spazzolatura circolare che però solo qui appare tutto il resto delle superfici è lucido e ad onor del vero la differenza tra satinatura e parti lucide non è così accentuata avrei preferito un maggiore contrasto in questo modo tutto appare un po troppo semi lucido di certo il punto forte dell'insieme è la sinuosità da qualunque prospettiva lo si guardi il profilo con le anse tendenti verso il basso dall'alto grazie alla forte curvatura delle estremità e dal davanti con quella lunetta scalini tondi che abbiamo visto in precedenza e qui termina la parte sobria dell'orologio sì perché siamo abituati a vedere pilot dall'aspetto militare o perlomeno austero orologi da battaglia vera come si suol dire e invece qui cambia tutto un quadrante che sorprende per gli accostamenti cromatici e per la spavalderia delle forme da dove iniziare iniziamo dal fondo quadrante un verde acceso a finitura rugosa che allo stesso tempo riesce a restituirci un accenno di brillantezza luccicante in inglese si direbbe glitter ingrandendo le immagini si comprende che l'effetto glitter è dovuto al fatto che i solchi rugosi sono stati riempiti con del trasparente lucido ad occhio nudo e a distanza ciò che si percepisce è un pizzico di contaminazione gialla che però va a degradare verso il nero lungo il bordo quadrante insomma sia la finitura che la colorazione caratterizzano fortemente l'orologio e nonostante sulla carta possa sembrare una soluzione improbabile se non addirittura imbarazzante dal vivo non solo funziona ma appare anche convincente allo stesso modo le sfere appaiono pigmentate di un arancione fluo che colpisce l'occhio in maniera diretta non lascia dubbi su dove possano trovarsi le lancette ed infatti il risultato è che la leggibilità è forse tra le più elevate che io abbia mai visto non si scappa a livello di originalità sopra le righe occorre anche menzionare la sagoma delle stesse talmente fuori dall'ordinario che è quasi inutile cercare di descriverle vi faccio solamente notare la base in nero opaco che in un mare di colore lucido risalta particolarmente ma non tutto è fuori standard si torna al classico quando si passa i numeri arabi a corollario il font è quello tipico dei pilot o dei fligger per meglio dire squadrato e ben presente personalmente in generale apprezzo molto i numeri arabi sul quadrante specie quando il datario è piazzato ad ore 6 e non rovina la simmetria apro una parentesi il fatto che il 6 sia tagliato per molti è un minus in realtà è una tradizione che si tramanda da secoli sia nel caso dei piccoli secondi che del datario ma torniamo ai dettagli del quadrante perché pur essendo così tronfio non rinuncia a qualche tocco di pregio ad esempio la tridimensionalità degli indici applicati è un apprezzabile segno di voler andare oltre l'apparenza e conferire al dial una prospettiva di profondità reale e lo sono anche le scritte un effetto 3d meno accentuato non percepibile ad occhio nudo ma che contribuisce alla globale sensazione di tridimensionalità anche in assenza di luce ritroviamo quella leggibilità tanto sciolinata finora gli accenti risultano ben distinguibili anche se la sfera ora appare nettamente più sottile e questo perché tutto ciò che è arancione non restituisce luminescenza illuminando il quadrante con la lampada uvi si vede che la risposta è incisiva non appena la si toglie la luminescenza scompare non mi è dato sapere se il loro dovere è quello di rimanere illuminate e il mio dubbio è che la luce solare possa caricare differentemente quel tipo di super luminova ma come spesso dico solo chi possiede veramente un orologio può elencarne i pregi e i difetti nel tempo è il momento di menzionare cosa muove questo orologio e lo possiamo anche vedere tramite il fondello che è trasparente attenzione non lasciatevi ingannare dal fatto che sia a vite l'impermeabilità dichiarata è limitata alle 5 atmosfere sufficienti per un normale utilizzo quotidiano ma a rischio per eventuali bagni al mare dicevamo il movimento si tratta né più né meno del sellita sv200 nella sua configurazione base si vede chiaramente che è privo di decorazioni e abbellimenti di sorta spartano è semplice tanto che mi domando perché si continuino a fare fondelli trasparenti specie in un pilot giusto per la cronaca anche il vetro del fondello è in zaffero antigraffio non resta che parlare del cinturino originale nel colore e nella realizzazione con la parte interna in pelle quella esterna in canvas realizzato a mano mette in luce sicuramente una qualità elevata ciò che mi ha colpito particolarmente è lo spessore veramente elevato e probabilmente frutto del fatto che si tratta di più strati cuciti assieme il rovescio della medaglia è che è molto rigido la testa dell'orologio rimane sollevata dal polso a meno di stringerlo in stile laccio emostatico questa è una caratteristica o difetto se vogliamo che ho riscontrato in molti centurini nuovi si spera sempre che con il tempo tenderà a cedere e ad avvolgere il polso in maniera più ergonomica possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali per prima cosa dobbiamo dire che funziona cioè voglio dire un orologio con quadrante verde sfere arancioni glitterato se uno te lo descrive a voce ti dice ma che minchia è questo orologio poi invece lo guardi lo studi lo testi lo provi lo assapori e scopri che funziona per qualche motivo astruso che non ci hai dato sapere l'orologio risulta essere credibile attendibile la conseguenza che si può avere un orologio verde di questo tipo da utilizzare ogni giorno in quasi tutte le occasioni certo non a un matrimonio o a una cena di gala voglio dire nelle situazioni formalmente classiche magari no però nella maggior parte le situazioni è un orologio che spicca il polso per eccentricità no però non va ma non va troppo oltre è un orologio che si può indossare in quasi tutte le situazioni poi è chiaro che la qualità costruttiva c'è il design un minimo di originalità c'è o se non altro pur essendo classico ha sempre il suo perché quindi è un orologio di qualità i punti dievoli possono essere riscontrati nel fondello trasparente per un pilot che ha poco senso sarebbe stato meglio avere un fondello di quelli belli ciechi con una bella rappresentazione grafica no poi soprattutto per il fatto che il calibro all'interno è sì un calibro svizzero sellite sv200 ma è pur sempre nella sua versione standard che è abbastanza brutta a vedersi quindi un doppio nonsense questo vetro zaffero sul fondello poi se vogliamo aggiungere anche il centurino possiamo aggiungere il centurino perché è spesso bello spesso fatto bene di qualità fatto a mano in pelle con la parte esterna in cordura ma è veramente rigido cioè almeno all'inizio io spero che poi si ammorbidisca perché praticamente ti fa stare la testa dell'orologio sollevata dal polso cioè bisognerebbe mettersi lì e fare un bel oppure immergerlo nel latte io ho sentito che questa e renderlo un po morbido oppure aspettare con l'utilizzo che si ammorbidisca certo che però le prime volte andare in giro con un orologio che sbalza sul polso in maniera un po poco credibile no va bene comunque questo è un punto debole niente di che io vi ho messo sul piatto tutto come al solito se vi piace gli ingredienti vi piacciono voi mescolate assaggiate e fate se non vi piace lo mettete da parte e ordinate un altro piatto funziona così mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino qua e vi ricordo come sempre gli appuntamenti fisiche sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube la off ciao ciao Grazie a tutti.